In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, la Regione Friuli-Venezia-Giulia sta dando una medaglia ai parenti delle persone che sono state coinvolte nella Grande Guerra. Qui abbiamo Vito Impagliazzo, che è presidente dell'Unione Nazionale sotto ufficiali italiani e vuole proprio lanciare questa iniziativa, insomma, facendo un appello alle persone per partecipare poi a questo premio. Esatto. Innanzitutto questo è indirizzato ai familiari, quindi ai nonni, ai fratelli dei nonni, penso agli zii, che sono caduti nel primo conflitto mondiale o per mare o per terra. Quindi tutti. E la Regione Friuli-Venezia-Giulia ha fatto questa iniziativa mettendo a bilancio circa 150 milioni di euro con un progetto approvato anche dal Ministero della Difesa e con apposite cerimonie in Friuli, cerimonie militari, vengono letti i nomi di tutti i caduti presi dall'Alpo d'Oro fatto da Mussolini negli anni Trenta, in cui sono riportati tutti i caduti e vengono consegnate proprio queste medaglie. Quindi chi vuole partecipare basta che ce lo faccia sapere perché noi organizzeremo proprio una giornata per questi dell'Isola d'Ischia e per altri comuni delle sezioni Unzi in Friuli, penso nel mese di ottobre, e possono o scriverci a ischia.na.unzi.it oppure telefonare alla nostra sezione. E il numero qual è? 339-6352-393. Signor Impagliazzo, che a lei risulta ci sono molte persone a Ischia, insomma molti caduti, schitani, durante questa grande guerra? A Ischia e Procida ne sono moltissime, ne parliamo intorno ai 300, solo della Prima Guerra Mondiale che a volte vengono dimenticati. Noi ci ricordiamo per esempio a Ischia e qui ci sono Edgardo Cortese, che è morto nella Prima Guerra Mondiale, ma ce ne sono molti altri che sono anche decorati di medaglia d'argento o di bronzo a valore militare o di croce di guerra a valore militare, proprio morti durante il primo conflitto mondiale. Potrebbe essere un'iniziativa anche delle amministrazioni comunali di Ischia e Procida che già sono state attenzionate su questa problematica, anche in virtù della toponomastica che a volte sta da molta difficoltà. Ci sono delle strade che hanno dei nomi particolari, magari sarebbe interessante intitolarne qualcuna a uno di questi caduti. Esatto, poi può anche essere un fatto per le scuole, per un motivo di ricerca, anche per loro in famiglia e per rivolgersi a un periodo storico che certamente, essendo passato quasi 100 anni, viene dimenticato, cioè non si guarda più. Però potendo fare un po' di retrospettiva sarebbe molto bello anche per loro e per i dirigenti scolastici, dalle elementari fino alle scuole superiori.